Siamo a Parma, la mia azienda si occupa di eventi, nasciamo come service tecnico, oggi siamo una realtà che porta consulenza ai clienti, quindi svolge la parte audio, video, tecnica, abbiamo un cuore tecnologico. Mi affianchiamo i clienti proprio nella realizzazione degli eventi. A un certo punto mi sono scontrato contro la De Simoni, che era un'azienda che già esisteva e lì è venuta l'intuizione a me e al mio socio di provare a rilevarla. Abbiamo visto una piccola realtà che aveva grandi potenzialità secondo noi e quindi abbiamo deciso di lanciarci in questa avventura sapendo che sarebbe stata complicata ma anche molto molto stimolante. Da dieci anni a questa parte ormai siamo qui e la portiamo avanti. Volevamo realizzare qualcosa di nostro, qualcosa di fatto come piaceva a noi, anzi come piace a noi perché lo stiamo facendo ancora oggi. Questo credo che sia la motivazione più forte. Le difficoltà all'inizio sono state quelle di dover far tutto da soli, nel senso che era da costruire, un'azienda da costruire. Nessuno ti insegna come condurre la tua azienda, nessuno ti insegna come andare a trovare i clienti, come soddisfarli, cosa offrirgli. Bisogna provare e bisogna sbagliare. Il valore della mia azienda è fatto dalle persone, non è fatto dal materiale, non abbiamo prodotti, non abbiamo brevetti, ma noi facciamo servizi, facciamo un tipo di lavoro in cui si sta insieme per tanto tempo perché durante gli eventi magari si parte, si sta via anche 3-4 giorni, una settimana e si vive di fatto insieme. Quindi i rapporti umani sono molto importanti, diventano centrali. Essere pronte alle sfide domani che sappiamo di non sapere, perché la pandemia, le guerre, tutta una serie di eventi ci hanno insegnato che l'impensabile a volte succede e quindi essere pronti all'impensabile. Vuol dire essere formati, essere flessibili, essere pronti alle sfide e come azienda accoglierle, cercare di non farla diventare un problema ma invece piuttosto uno stimolo. fare l'imprenditore credo che non sia una scelta solo lavorativa, più una scelta di vita, perché va a toccare comunque volente o nolente molti più aspetti della vita a necessità di molto più impegno rispetto a una scelta magari da dipendente o di lavoro di tipo diverso. Oggi entro nei miei uffici e non ci entro come anche questa mattina devo arrivare al lavoro, ma piuttosto entro in uffici che ho contribuito a creare, ho fatto come volevo io, quindi sono un po' una seconda casa e questo fa pesare molto poco, addirittura nel mio caso per nulla. La fortuna di chi vuol fare l'imprenditore è che quello che vai a creare è quello che vuoi tu, è quello che hai fatto come sei tu e quindi diventa veramente leggero poter riuscire a lavorare. E' la parte negativa ma anche molto positiva. Ci vuole tanto coraggio però se questo cambio effettivamente va a riscrivere quelle che sono le regole ci si ritrova a fare qualcosa di bello, di fatto bene e soprattutto veramente che può fare la differenza.